Un arsenale è quello che hanno trovato i carabinieri della compagnia di Campi e Salentina nelle campagne di Veglie. Era nascosto in un casolare in località Santa Chiara adibito a deposito attrezzi. Il proprietario, Maurizio Zucchero, 44 anni, è stato arrestato in flagranza di reato. L'uomo, un macellaio di Veglie e fratello di Armando e Daniele Zucchero, arrestati il 13 maggio scorso nel corso dell'operazione dei Tauor, sempre dei carabinieri di Campi, che smantellarono un'organizzazione dedita al traffico di droghe e alla detenzione di armi. Maurizio Zucchero, sino a questo momento, non aveva mai avuto problemi con la giustizia. Eppure le armi, trovate anche grazie al fiuto dei cani del nucleo cinofili di Manduria, erano nascoste nel casolare di sua proprietà. L'arresto è stato inevitabile. I militari hanno trovato 646 proiettili calibro 9x21 di varie marche, 48 proiettili calibro 9 Parabellum, 8 proiettili calibro 12, un coltello con lama di 17 cm. Il sequestro si è steso poi anche alle armi che il macellaio deteneva in casa e che erano legalmente detenute. Tre fucili e una pistola 9x21.